Buongiorno a tutti, oggi abbiamo un'esclusiva mondiale, signori tutti in piedi, oggi per voi solo dal vostro Diego di Lego, l'intervista all'unico, all'originale, Baffetto, si, proprio quel Baffetto, buongiorno signor Baffetto, grazie, buongiorno Diego, signor Baffetto, inizio subito con le domande, lei è mai stato tagliato? Ovviamente, più che una volta, altrimenti sarei lunghissimo, scusi ho detto una stupidata, non si preoccupi, sono abituato, sa quante ne ho dovute sentire io di stupidate, eh immagino, ma torniamo a noi, lei in tutte le foto è sempre dritto, perfetto, qual è il suo segreto? In realtà Diego, io sono unto, sono impegnato, di grasso e olio, crauti e sugo, mi annunci pure? No, no, mi fido, mi fido, lei mi vede così, ma in realtà io sono baffo triste, molto triste, sono nato baffo, ma in realtà avrei voluto essere pelo pubblico, non sia triste, signor Baffetto, garantisco che lei passerà la storia per essere stato pelo pubblico a tutti gli effetti, grazie Diego, grazie, lei merita la storia così, ma si immagini, da Diego di Lego e dal signor Baffetto, pelo pubblico, è tutto, a voi la linea!